L'operazione La Carica delle 104 fa la prima vittima. Dopo l'indagine della Digos di Egregento, che portò alla successiva emissione dei 17 misure cautelari a 84 indagati, rivelando l'esistenza di due vere e proprie squadre impegnate in provincia di Egregento nel rilascio facilitato di certificati di invalidità per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 104, adesso arrivano i primi provvedimenti che eliminano trasferimenti ritenuti non in regola. L'atto, firmato il 12 maggio scorso, la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Egregento, Raffaele Zarbo, interessa una insegnante della scuola primaria, la quale a fine aprile aveva ottenuto il trasferimento da una scuola di Racalmuta ad una di Raffadali e, si legge, prende atto di un elenco trasmesso all'ufficio dall'Inps lo scorso 6 maggio. Si tratta di un primo elenco contraente ai soggetti coinvolti nell'ordinanza, che sono stati sottoposti a visita medica, e tra questi ve ne sono alcuni della scuola, per alcuni dei quali si stanno attendendo notizie più determinate, mentre per il soggetto in questione era già possibile intervenire. Come annunciato fin da subito, da Zarbo, non appena ha ricevuto gli atti, ha provveduto a firmare la revoca del trasferimento. Per altri eventuali aggiornamenti in tal senso, si attendono dagli esiti delle visite mediche collegiali, realizzate in questa settimana dall'Inps, ma già in altre occasioni non dipende dall'ufficio. Come si ricorderà, infatti, entro luglio si dovrebbero concludere i controlli medici a tappeto straordinari condotti dall'Istituto Previdenziale sui beneficiari della legge 104 su tutto il territorio provinciale. Solo al termine di questo screening, appunto, si potrà verificare se su oltre 1.900 persone che usufruiscono dei benefici della legge 104 vi sono dei furbetti.